Perché sono così preoccupati? Se stanno persone in mare che stanno morendo, lo insegna il mare. Se voi parlate con un pescatore, parlate con un cittadino che è rimasto uomo, o donna, o persona. Se si parla a un militare della Marina Militare, se si parla al personale della Capitaneria delle Guardie Costiere, che cosa ti dice? Che se nel mare una persona sta morendo va salvata. E se apriamo tutti i porti d'Europa, non accade che solo qualcuno si deve fare carico di un'emergenza di questa portata per colpa dei governi. Perché se c'è questa tragedia migratoria, non è colpa dei cittadini italiani, dei cittadini europei. È colpa dei governi che non hanno saputo cooperare in modo serio, efficace e intelligente con l'Africa e col Medio Oriente. A questo punto penso che molte cose sono volute. Perché se poi c'è chi si fa la carriera politica e diventa potere forte, grazie alle ingiustizie che ha contribuito a realizzare, vuol dire che qua il disegno è molto più vasto di quello che si può pensare. Ecco perché per noi, città delle quattro giornate, città che per prima cacciò i nazisti e i fascisti con una rivolta di popolo, avere a Ostia una manifestazione di Casa Pound è come mettere una madaglia d'oro al valore civile. Quindi grazie a Casa Pound per aver preparato una nave dalla quale mi vuole spellere dall'Italia. C'è una differenza. E noi proviamo ad attuare i valori costituzionali, loro ne fanno scempio quotidianamente. Questa è la differenza. E uomini e no. Mi ritrovo molto in questa bella frase che ricorda qualcosa di memorabile del Novecento. C'è chi rimane uomo e c'è chi diventa pietra. Oggi bisogna decidere se rimanere umani o diventare pietre. Ed ecco perché noi ci schieriamo su tutte queste manifestazioni di solidarietà, compreso l'adesione che ho fatto stamattina alla bellissima manifestazione del 23 di giugno a Reggio Calabria. Grazie. Grazie. Grazie.